Io c'ho paura dei morti. Tu non dov'è avere paura di molto. Tu non dov'è avere paura di vivo. Chiamiamo qualche turno al 113 in ambulanza. Fiamo qualche cosa. Per carità, non chiamare la polizia. Io perdere per mezzo di soggiorno. Poi pubblicità per molto ammazzato. L'istorante è sputanato. Capito? E allora che fanno? Hanno italiano pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Poi nascondere. Che fa, ma è morta a spezzatino? Perché non ti piace? Io conosco bene l'ispettore della polizia. E' un amico. Se gli telefoniamo, quello ci aiuta. Allora, non chiamare la polizia. Se tu chiami la polizia, qui è finita la vita mia. Capito? Io devo pensare che fare... Ah, ecco. Vai là, chiude la sala cinesca. A poco, a poco. Che vuol dire? A poco, a poco. A poco vuol dire dai. A poco, a poco. A poco, a poco, a poco vuol dire dai, dai. A poco, a poco. Io non c'ho capito niente.